In questo video ti voglio parlare dei fattori che ti impediscono di raggiungere la forma che desideri, la forma ideale, e sono tre fattori che secondo me ti potranno stupire. Ma partiamo prima di tutto dal cosa vuol dire essere in forma, perché è una di quelle cose che tanti desiderano ma non è necessariamente chiaro. La forma non è solo una questione estetica, la forma è prima di tutto una questione funzionale, quindi essere in forma vuol dire essere in agio e in armonia con il proprio corpo, vuol dire anche perlomeno fino a un certo grado piacersi, essere felici della propria apparenza, ma ancora di più vuol dire essere in grado di fare con il proprio corpo quello che si desidera fare. Ecco perché dico non è soltanto estetica, perché si potrebbe essere esteticamente in forma ma poi non essere in grado di andare per esempio a fare una lunga passeggiata in montagna perché non si ha abbastanza fiato o resistenza. Quindi l'idea di forma fisica è un'idea appunto di equilibrio, è un'idea di armonia, è un'idea di funzionalità complessiva e non soltanto di essere magri, di avere gli addominali o di avere un po' più di massa muscolare. Tutto questo va bene, ma va bene nel contesto di una capacità funzionale integra che ti permetta di fare con il tuo corpo tutto ciò che desideri effettivamente fare. Ma ci sono dei fattori e appunto come accennavo nell'introduzione non ti parlerò delle solite cose, il programma X è fenomenale e ti rende in grado di entrare in forma in un attimo il programma Y invece per carità non farla mai, ce ne sono fin troppo di video così non mi interessano questi tipi di discussioni. Ti parlerò invece di fattori mentali, di fattori diciamo strategici che possono impedirti di raggiungere la forma che desideri. Credo che sia più importante questo perché sono fattori più subdoli di cui generalmente le persone non si accorgono e non non le tengono così tanto in mente anche perché c'è troppa informazione che tende a sottolineare gli effetti pseudo miracolosi del programma X o del programma Y. Allora ragioniamo un po' più invece guardando a cosa succede nella nostra testa quando decidiamo di metterci in forma. Allora un errore molto tipico che si riscontra nelle persone volere tutto subito. Le persone si mettono in testa un ideale di forma fisica e vedono in quell'ideale qualcosa che va ottenuto subito e vedono nel proprio corpo nella propria condizione di non forma qualcosa che va eliminato, che va dimenticato, che va messo immediatamente in disparte. Questo elimina qualsiasi forma di gradualità ma contrariamente a quello che si può pensare, volere tutto subito e togliere la gradualità non è affatto qualcosa che ti dà più motivazione, al contrario apre la porta alla frustrazione ovviamente, perché se io non tengo presente che lo stato di scarsa forma in cui magari sono è la conseguenza di decadi, di anni, di un tempo molto lungo e spero di risolvere quella problematica in un tempo al contrario molto breve, è evidente che i risultati in realtà non li otterrò in tempi brevi ma la mia aspettativa ovviamente mi porterà a un certo grado di frustrazione, di rabbia, di fastidio che porta a mollare. Questa è una delle ragioni principali per cui le persone mollano i programmi che si mettono in testa di fare per rimettersi in forma e questo porta anche questo scarso rispetto per il concetto di gradualità e per una certa pazienza porta anche a fare in genere troppo per un breve periodo ma non essere costante, proprio perché sto cercando l'effetto immediato, esagero con la quantità di attività fisica che faccio o magari con la restrizione alimentare che metto in atto e questo è un ulteriore fattore che mi fa perdere costanza perché a un certo punto non ce la faccio a tenere quel ritmo. E siccome è la costanza che permette di creare l'abitudine, questi sono dei meccanismi veramente controproducenti. Punto numero due, i modelli errati. Ora io non ho niente contro avere dei modelli ambiziosi, però se sei fuori forma, se sono tanti anni che non ti prendi cura di te stesso o di te stessa, metterti come modello la top model o l'atleta super palestrato è controproducente perché è un modello talmente lontano che ancora una volta il fatto di averlo in testa non credere che ti motivi, anzi ti darà un certo grado di frustrazione. Quello che dovresti fare è cercare di creare un modello che sia la tua versione dell'essere in forma e se non lo sei mai stato dovrai immaginarti come potrò essere io ad un grado di forma che mi piace e il suggerimento che ti do è di non avere soltanto un modello diciamo estetico, un'immagine, ma anche di provare a vivere le sensazioni che sentirai, a cercare di vivere la leggerezza che sentirai, la comodità che per esempio potrai avere nel vestirti rispetto alla scomodità dell'essere fortemente per esempio in sovrappeso, quindi cerca di rendere i modelli che scegli molto realistici e se è un modello tuo è molto più funzionale di un modello di qualcun altro. Punto numero 3 non darti abbastanza gratificazioni, cioè se l'unica gratificazione che c'è nel rimanere fedele a un programma di rimessa in forma è proprio la forma che dovrai ottenere a distanza di un anno, due anni, tre anni, quello che è, e questo non ti dà una gratificazione sufficiente a rimanere costante, a rimanere motivato. In realtà la gratificazione è il motivo numero uno per cui gli esseri umani agiscono e scelgono di agire in un modo piuttosto che in un altro, e in realtà molto spesso nei programmi di rimessa in forma noi parliamo astrattamente di disciplina, di motivazione, di forza di volontà che sono tutte cose esauribili nel breve periodo, non sono le forze che danno costanza nel lungo periodo. L'unica forza che dà costanza nel lungo periodo è una organizzazione della gratificazione che tu devi essere in grado di darti con dei piccoli premi o anche semplicemente riformulando le aspettative che hai in testa, cioè se io mi concentro per esempio riguardo all'attività fisica sulla gratificazione data da, che ne so, l'aria fresca, la sensazione di energia che ho quando vado a camminare al mattino, quella ce l'ho subito, ce l'ho ogni volta che vado a camminare. Se invece mi concentro solo sulla forma fisica che ipoteticamente potrei acquisire nel tempo, ce l'avrò solo quando l'avrò acquisita e chissà se ci arriverò mai. Quindi in sostanza il consiglio che ti do, che è ovviamente anche frutto un po' delle scelte che io ho fatto di lavorare più su questi aspetti, è di concentrarti maggiormente sulla tua strategia mentale e su come usi la tua mente o per dirlo ancora in maniera più specifica il tuo cervello per aiutarti a raggiungere degli obiettivi e invece fidarti poco appunto delle notizie dell'ultimo programma, l'ultimo attrezzo, l'ultima dieta che sono più dei fattori di disturbo che altro. Alla fine rimettersi in forma passa sempre comunque attraverso due principi che sono alimentarsi meglio perché ovviamente l'alimentazione è fondamentale per la salute, per la forma fisica e ormai diciamo moltissime ricerche provano quanto alimentarsi in maniera corretta permetta di prevenire malattie importanti, quindi non soltanto per una questione di forma ma per una questione veramente di salute e certamente punto numero due allenarsi con costanza, quindi sì fare una vita attiva non sedentaria ma anche proprio pianificare un'attività sportiva che sia più vicina a un vero e proprio allenamento e in questa ottica di questi due principi la cosa più importante è la costanza nel tempo, se rimani costante con un'alimentazione corretta e un piano di attività fisica corretta i risultati prima o poi arrivano. Chiaro che se ti interessa essere guidato un po' meglio su questi temi beh allora puoi cliccare il link che trovi qui sotto nella descrizione, ma più di ogni altra cosa ricordati che la vita è una e che spetta a te e solo a te renderla straordinaria.